Bene, ci sono tantissime cose di cui parlare su questo iPhone 15 e alcune di queste sono provenienti da Apple stessa, sono quindi cose ufficiali, non sono rumor, cose inventate e strampalante, ma sono cose che davvero vedremo il prossimo anno. Prima di iniziare come sempre vi chiedo di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale perché aiuta tantissimo il mio lavoro. Ma iniziamo parlando con questa novità che avrete sicuramente letto dal titolo della copertina, ovvero che il prossimo iPhone, quindi l'iPhone 15, l'anno prossimo avrà la USB di tipo C, quindi sparisce la porta Lightning che abbiamo da ormai 10 anni, mi pare che fosse stata introdotta per la prima volta con l'iPhone 5, quindi 5S, 6 e quant'altro fino all'iPhone 14 abbiamo sempre avuto la Lightning e con l'iPhone 15 arriverà la USB. E' una cosa ufficiale perché qualche giorno fa c'è stata una conferenza del Wall Street Journal dove c'è stata una sorta di intervista con alcuni boss Apple, o meglio con due dei più grandi boss Apple, con Craig Frederighi e con Greg Joviak. Loro hanno parlato un pochettino di diverse cose ma le cose che sono state più importanti è quando gli è stato chiesto se i prossimi iPhone avranno la USB di tipo C. Ovviamente non hanno risposto sì, l'iPhone 15 avrà la USB di tipo C perché naturalmente non possono dire una cosa così, non l'hanno mai fatto e soprattutto a pochi giorni, pochi mesi di distanza dal lancio dell'iPhone 14 non possono dire che il successivo modello avrà altre caratteristiche e soprattutto una cosa così importante. Non avrebbe senso, ma hanno detto che sì, dovranno anche loro stare regolamenti che il governo in Europa, in Unione Europea, ha deciso per tutti i dispositivi. Perché qualche giorno fa, in realtà se ne parla da mesi se non anni, l'Unione Europea ha deciso e stabilito che tutti i dispositivi come smartphone, tablet, mi pare anche qualche fotocamera, che verranno venduti all'interno dell'Unione Europea dovranno avere una USB di tipo C. Niente micro USB e quindi neanche niente lightning, ma sarà quindi questa porta standard e quindi tutti quanti i produttori dovranno un po' allinearsi e anche Apple in questo caso. Io devo dire che sono molto contento, la USB di tipo C la sto aspettando da secoli, non so come la implementeranno sull'iPhone 15, se devo immaginare posso pensare che magari ci saranno sempre due distinzioni tra gli iPhone 15 e i modelli Pro. Con gli iPhone 15 che magari utilizzeranno semplicemente uno standard di USB di tipo C, ma comunque velocità da USB 3-4, mentre sui modelli Pro ci sarà una Thunderbolt direttamente, come abbiamo ad esempio anche sugli iPad Pro. Quindi per un trasferimento dei file ancora più rapido, quindi con la possibilità di collegare delle SSD esterne più rapide e quindi per fare anche da lavoro un po' più professionale. Quindi immagino tante persone che magari fanno un lavoro dove devono gestire tanti social e quindi tramite un iPhone con un USB di tipo C spostare file rapidamente potrebbe essere molto comodo. Sicuramente io lo utilizzerò tantissimo perché molto spesso registro filmati con il mio iPhone 14 Pro e inviarli tramite Airdrop è sì comodo, ma comunque non raggiunge la velocità che potrei avere con lo spostamento tramite cavo, magari con quello Thunderbolt. Ma comunque vedremo l'anno prossimo, questa è una cosa che ormai diamo per certa a tutti quanti, ma sebbene questa cosa sia praticamente ufficiale, un'altra opzione che tanti discutevano online era la possibilità che Apple togliesse tutto. Togliesse la porta Lightning, non mettesse una porta USB di tipo C, ma che la ricarica dell'iPhone passasse direttamente tramite il MagSafe. Era una cosa possibile, magari Apple l'avrebbe fatta passare per una questione di impermeabilità, magari anche di sicurezza, però secondo me arriverà la USB di tipo C. Per invece mantenere molto più sicuri tutti i vostri dispositivi, la cosa che vi consiglio io è quella di installare su tutti i vostri device NordVPN. NordVPN, se non la conoscesse, è una VPN appunto, ma in realtà è un servizio molto più complesso, perché solitamente quando si pensa a una VPN pensiamo semplicemente che sia un qualcosa che ci protegge quando andiamo a utilizzare delle reti pubbliche, come in bar e ristoranti, e quindi impedisce ai malintenzionati di spiarci magari quando utilizziamo dei siti poco sicuri. E questo è possibile farlo tranquillamente con NordVPN, ma io in realtà, ora che ci penso, la utilizzo maggiormente in casa. Perché con NordVPN abbiamo l'opzione, la funzionalità di Trade Protection, che ci consente di incanalare tutti i nostri dati e anche di evitare che i tracker ci seguano quando facciamo delle ricerche online. I tracker banalmente sono delle cose che vanno un pochettino a capire quali sono le nostre abitudini di acquisto, ma anche di ricerca, quindi capiscono le cose che ci piacciono e poi vanno naturalmente a influenzare i prezzi delle cose che vogliamo acquistare. Con NordVPN siete protetti da questo punto di vista, ma anche grazie alla Trade Protection, che vi aiuta a proteggere da tutti i malware che possono infettare il vostro dispositivo. Se voleste sapere di più e se voleste utilizzare NordVPN, vi lascio qua sotto il link in descrizione, anche perché c'è un'offerta sul piano biennale, fino al 69% di sconto con anche 4 mesi gratuiti. Insomma, protezione con Trade Protection, ma anche e soprattutto una VPN così tanto veloce e forte come NordVPN. Un'altra cosa che è emersa durante questa intervista è che probabilmente in futuro arriverà una sorta di iPad, iMac Pro, una cosa un po' strana, ovvero un iPad che si può poggiare su una base, che quindi diventa un iMac, insomma un dispositivo completamente nuovo, del quale anche qui si discute da diverso tempo. Allora, partiamo dall'inizio, da quando qualche anno fa gli si chiedeva a Apple se mai sarebbe arrivato il touch sugli iMac. Apple ha sempre detto di no, molto chiara, molto stretta, no, non sarebbe arrivato il touch sull'iMac. Ora invece durante l'intervista dicono, chissà, e quando rimangono così, un po' sul vago, vuol dire che c'è qualcosa sotto e stanno preparando qualcosa. Allora, io ora voglio un po' unire un po' di informazioni perché secondo me in futuro potrebbe arrivare una qualcosa di molto interessante, anche perché i rumor che sono usciti durante queste settimane ci dicono che Apple sta lavorando molto probabilmente anche a un iPad 14 e un iPad da 16 pollici, quindi degli iPad molto grandi. Però se pensiamo a un dispositivo così tanto grande, un tablet così tanto grande, con iPadOS, un sistema operativo quindi pensato per l'utilizzo mobile, potrebbe non essere il massimo, quindi non si potrebbe sfruttare a pieno perché comunque iPadOS con la versione numero 16 è stato aggiornato, ci sono tante funzionalità, però comunque non è macOS, non è un sistema desktop dove possiamo fare davvero tantissime cose. Si sta quindi pensando che Apple stia preparando una sorta di sistema operativo intermedio, una sorta di mix tra macOS e iPadOS. E secondo me è vero, anche perché se guardiamo le ultime release di macOS Ventura e iPadOS 16.1 e .2, vediamo che tutti e due i sistemi operativi hanno Stage Manager e il funzionamento è praticamente identico. Quindi, secondo me, in futuro arriverà questa sorta di tablet che si può poggiare su una base che diventa quindi una sorta di iMac. Magari non c'è un macOS completo, definito, con tutte le funzionalità come quelle che abbiamo su un Mac vero e proprio, ma che è quindi una sorta di iMac Touch dove possiamo fare praticamente di tutto. Secondo me questo è il nuovo dispositivo che arriverà nella line-up Apple, non so se l'anno prossimo, secondo me i tempi non sono ancora eccessivamente maturi, o l'anno prossimo o nel 2024 un qualcosa del genere arriverà, perché secondo me potrebbe fare davvero la differenza. Magari penso a tutte quelle persone che vogliono utilizzare l'iPad per lavorare, per disegnare, anche perché con l'iPad Pencil si può fare davvero di tutto. Comunque queste erano tutte le novità e informazioni che sono state un po' estrapolate durante questa intervista così tanto importante con i boss Apple. Se questo video vi è piaciuto fatemi sapere qua sotto con un mi piace, anche con un'iscrizione, ma soprattutto voi vorreste l'iPhone con la USB di tipo C? Io sì, ve l'ho detto. Una delle più grandi delusioni forse è stata le nuove AirPods di seconda generazione che sfruttano ancora la Lightning, però comunque c'è la ricarica wireless, quindi la Lightning praticamente non la sto usando, ma comunque ne parliamo in un video apposito. Questo comunque era tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!